Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Nel video di oggi, innanzitutto ho cambiato inquadratura, quindi fatemi sapere se preferite che sia più vicino allo schermo o più lontano, però più immerso nella libreria, oppure non ve ne frega niente, non ve ne intendete, non vi interessa, fatemelo sapere. Oggi parleremo di Samuel Stern, numero 3, che si intitola Legione, titolo che spero di non ripetere troppo spesso perché è un nome che mi fa un po' paura e andiamo a capire perché. Prima di cominciare vi ricordo però di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video, di mettere un bel mi piace anche agli altri video così a fiducia, di condividere il video con tutte le persone che amano i fumetti e di commentare sotto con quello che ve ne pare a voi di quello di cui sto parlando. Per chi non lo sapesse, Samuel Stern è un prodotto italiano dalla Bugs Comics, la nuova, relativamente nuova casa editrice Bugs Comics, che è una casa editrice che ha sede a Roma, fondata da due ragazzi invece di Napoli, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, che ha appunto portato sulla carta questo nuovo eroe che un pochino ricorda Dylan Dogg nel senso che comunque vive in Gran Bretagna, non a Londra ma ad Edimburgo, si occupa appunto di demoni in modo molto più specifico rispetto a Dylan Dogg che si occupa di tutto ciò che è incubo, quindi è molto generico il suo campo d'azione. Invece questo è una specie di esorcista laico, se così vogliamo dire, che comunque lo fa per volontariato perché il suo lavoro è un altro, il suo lavoro è quello di essere un libraio di Edimburgo. Quindi ci sono leggerissime assonanze con il più famoso indagatore dell'incubo, forse anche per strizzare l'occhio al pubblico di Dylan Dogg che magari in questo periodo più che mai si sta guardando in giro, come quando hai una relazione troppo lunga e noiosa con una persona e la vuoi lasciare e ti inizi a guardare un attimino in giro, Samuel Stern è l'amante, diciamo, se vi piace questo esempio. Ma andiamo dritti a parlare di questo fumetto. Allora, ragazzi, penso che farò dello spoiler perché diciamo che le basi di Samuel Stern le ho già dette nell'altro video, di cui vi metterò un link qui da qualche parte, ve lo andate a vedere così mi alzate anche le views. Quindi andrò subito a parlare di spoiler, ok? 3, 2, 1, spoiler! In questo episodio si entra ancora di più nel mondo demoniaco, si capisce ancora di più di come Samuel Stern appunto riesca a vedere i demoni che sono all'interno delle persone, che in questo universo creato dalla Bugs Comics i demoni vengono creati dalle persone stesse, se involontariamente a seguito di un trauma il demone viene creato dall'essere umano e come un parassita che nasce però all'interno di questo corpo, cresce, si alimenta, però diventa poi totalmente indipendente o meglio diventa senziente rispetto al corpo umano che diventa un ospite a tutti gli effetti e ne provoca danni sia all'ospite sia al mondo esterno, perché appunto l'essere umano indemoniato poi diventa il classico stereotipo di essere umano indemoniato che fa danno, diciamo così. Samuel Stern si occupa appunto di estrarre questi demoni e rimandarli all'inferno. E in questo numero il nome legione, che davvero nella mitologia cristiana, demoniaca, è il vero nome di un demone molto pericoloso, non c'è un crocifisso quando si parla di queste cose, vabbè comunque, qua viene dato a una sorta di realtà. Ci fanno capire come se per noi esseri umani c'è l'inferno, ci fanno capire che anche questi demoni hanno una specie di loro inferno, che chiaramente non è il nostro, ma è un inferno per i demoni che si chiama appunto legione. Quindi è una sorta di piano della realtà, diverso dalla terra, diverso dall'inferno, ma comunque è un piano della realtà che può esistere contemporaneamente alla nostra realtà. Questo concetto del fatto che l'inferno sia sulla terra, ma in un piano differente, è la stessa cosa anche per il paradiso, è un concetto non nuovo, che io adoro tantissimo a livello filosofico, non che io mi intenda di filosofia, e che ho già visto una volta nel film del 2005, Constantine, che se vi piace Samuel Stern vi piace questo film e viceversa. Constantine è tratto a sua volta da un fumetto, Hellblazer, ma è tratto liberamente da Hellblazer, quindi se siete fan del John Constantine di Legends of Tomorrow o dell'ononima serie tv, che sono un attimino più attinenti al personaggio dei fumetti, questo film vi potrebbe deludere, tant'è che proprio per questo ha deluso i fan nel 2005. Ma se non siete fan, se lo vedete puramente come un film, è un ottimo film che si addentra in questa mitologia, la rimescola e crea davvero un prodotto interessante. In questo fumetto, in questo numero, abbiamo a che fare con un essere umano che in realtà convive bene con il suo demone. E mi è piaciuto molto questa trama, anche se anche qui è una cosa insolita inizialmente, ma che ha un finale che ho già visto da qualche parte e poi vi dico dove. I disegni sono tornati ad essere, dopo il numero due, sono tornati ad essere molto netti, molto diciamo spartani, quindi non hanno troppi dettagli nel fondo, sono molto puliti, cosa che è anche quasi allegri, cosa che appunto in un fumetto dove se parla dei mostri, dei demoni, mi fa un po' specie. C'è proprio questo contrasto tra la pulizia dei tratti e tra l'argomento trattato, ma forse sono un po' troppo abituato io ultimamente alle tavole di Corrado Roy in Dilan Dog. Quindi questi sono disegni molto più netti, tranne in alcuni, chiamiamoli flashback, dove i disegni assumono tutto un altro sapore, non c'è più il bianco e nero, c'è una tonalità di grigio che fa capire che si è in un flashback. Molto interessante, lo si vede anche spesso nei manga questa tecnica. Purtroppo questo ragazzo appunto che è indemoniato, ma è un bravissimo ragazzo, a quanto pare convive bene con il suo demone, l'ho anche chiamato Ringo, come Ringo dei Beatles, e anche a questo proposito vi consiglio di leggerlo e poi di ascoltarvi Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, è molto preoccupato perché questo essere umano ha un problema, ha un tumore, sta morendo e di conseguenza se morisse morirebbe anche il suo amico demone. Quindi sta chiedendo a Samuel Sterna di essere esorcizzato temporaneamente per fare l'operazione che gli toglierà il tumore, in modo che se tutto vada bene poi il demone gli venga rimesso in corpo. Chiaramente Samuel Sterna inizialmente si oppone, poi alla fine accetta, c'è tutta questa diatriba tra Samuel Sterna, il suo amico sacerdote Duncan e un nuovo amico che si vede all'inizio, che mi ricordo un po' uno dei comprimari di Dylan Dogg, che non ricordo il nome, che è questo personaggio qui, quindi viene introdotto così, spiattellato un attimino questo nuovo personaggio, quindi iniziano un po' a infoltire i comprimari, questo mi piace molto, c'è tutta questa diatriba interna finché poi non si fa questo esorcismo temporaneo, finché poi Samuel Sterna non parla con il demone stesso e da lì capiamo che non sempre è il demone la persona cattiva, ma spesso, come in questo caso non succede, il demone era l'amico che teneva un attimino frenata la natura orribile di questo essere umano e di come questo essere umano senza il suo demone fosse molto più cattivo per la morale, per la società. E appunto vediamo un finale dove questo ragazzo qui uccide, dopo solo tre settimane da essere separato col suo demone, uccide una persona, diciamo, in modo orrendo tra l'altro. Questa cosa che tolto il demone, l'essere umano svuotato di questo demone è ancora più orrendo, io l'ho già vista, ma non sto dicendo che sia brutto che l'abbiano citata se mai si fossero davvero ispirati a questo, mi ha fatto piacere che abbiano ritrattato il tema, io l'ho già vista in Angel, Angel il vampiro con l'anima, che è lo spin-off del telefilm un pochino più conosciuto qua in Italia, Buffy l'ammazza vampiri. Se non conoscete Buffy, recuperatelo, purtroppo non è ancora sulle piattaforme streaming, è su Spike TV, quindi chiaramente non lo potete recuperare, dovete seguirlo, però se riuscite a comprare DVD e a scaricarlo, se riesco vi metto anche io qualcosa in descrizione, è un fantastico telefilm che è diventato culto e ha un suo spin-off che è Angel, che tratta appunto un po' della redenzione dell'anima, dell'espiazione dei peccati, perché l'ho appunto è un vampiro con l'anima che però ha un passato da sociopatico pluriomicida e vuole redimersi. Unica postilla negativa mi è parso nella sceneggiatura che in alcune scene ci sia proprio uno stacco, cioè da quello che ci si appresta a fare a quello che si è appena fatto, non so se mi sono spiegato bene, in un paio di volte mi è capitato di risfogliare indietro per capire se avevo saltato io una pagina. Non so se è una scelta della sceneggiatura saltare un attimino alcuni passaggi per arrivare subito al risultato finale o se per questioni di impaginazione abbiano dovuto fare dei tagli. Come si fa al cinema? Perché appunto i fumetti devono essere pubblicati a 4 a 4, a pagine da 4 a 4 e quindi probabilmente hanno sforato e hanno dovuto tagliare un paio di tavole, non lo so, però magari sceneggiatura, magari andando avanti scopriremo a livello di sceneggiatura e a livello di disegno dove ci porterà questa nuova collana che comunque ha solo tre numeri. È sempre scritta da Gianmarco Fumasoli che vi ricordo è uno dei fondatori della Bugs Comics quindi per ora è lui che sta reggendo il personaggio a livello di sceneggiatura mentre è disegnato da Marco Perugini. Con questo è tutto. Come vedete ho fatto una recensione un po' particolare ovvero ho parlato poco del fumetto ho parlato più un po' delle citazioni che io ho trovato in questo fumetto citazioni di media che a me piacciono in modo da condividerli con voi in modo che se vi fa piacere li andate a recuperare. Non è una recensione lineare classica però ne trovate mille su internet quindi ho voluto un attimino differenziarmi dicendo la mia. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa cosa se invece preferite una recensione un po' più classica dove parlo di quello che parlano anche gli altri però lo dico io fatemelo sapere io preferisco differenziarmi un pochino e essere un po' più personale con voi come se fossimo degli amici che si stanno conoscendo e che si vogliono far partecipi tra di loro delle proprie passioni. Con questo è tutto io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto mi allontano anche lentamente e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci. Grazie.